Non c'è il sole ad accogliere i partecipanti all'edizione 2020 del trofeo Elio e Roberto Mastrosanti, ma c'è tanta voglia di far bene in una giornata allestita dal Velosport Ferentino e che sarà valida anche come settimo trofeo città di Ferentino. Una mattinata impegnativa che prevede alla via due corse, quella al quale si stanno riferendo le immagini in questo momento della categoria esordienti primo e secondo anno e poi subito seguire la prova della categoria allievi. Entrambe le gare assegneranno anche le maglie di campione regionale del Lazio per quanto riguarda le categorie. La famiglia Mastrosanti è presente, non poteva essere diversamente la partenza quest'anno, così come l'arrivo si svolge di fronte allo Speedy Fest, l'azienda di Pierangela. Mastrosanti, sorella di Roberto, figlia di Elio che è presente insieme alla mamma e alle altre sorelle quest'oggi per ricordare ancora una volta la passione del ciclismo di un ragazzo venuto a mancare troppo presto come Roberto e poi l'immensa passione invece di Elio che per anni a Ferentino ha allestito la manifestazione in ricordo del figlio e che poi negli ultimi anni è passata con l'organizzazione del Velosport Ferentino del presidente Walter Cardarilli. Dicevamo si parte con la prova riservata alla categoria esordienti del primo e secondo anno, un primo tratto di circa 3 km di trasferimento giusto per evitare una partenza subito con il naso all'insù e poi un circuito da ripetere per 6 volte, circuito che misura poco più di 3 km a giro e un circuito decisamente ondulato. Ma le difficoltà sono ben prima dell'inizio del circuito, infatti gli atleti dovranno affrontare la strada che porta praticamente all'ingresso del centro di Ferentino e quindi si parte praticamente subito in salita. Ma intanto è avvenuta la partenza ufficiale, qui vedete in testa Niccolò Ragnatela del Team Eurobike a fare l'andatura e come vedete i 38 atleti che hanno preso il via dei 59 che erano iscritti adesso stanno pedalando in questi primi chilometri ufficiali in questa manifestazione che, vi dicevo, è allestita dal Velosport Ferentino. La partecipazione è arrivata davvero un po' da tutta Italia e questo ha sicuramente rallegrato per quanto riguarda la soddisfazione dello gruppo guidato da Walter Cardarilli con il presidente onorario Daniele Fagiolo, ma tutto lo staff con lo staff tecnico della formazione allievi del Velosport Ferentino guidato come sempre da Mario Morzilli, ma tutti coloro che girano un po' attorno a questa bella realtà che ha visto presente anche il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, alla presenza questa mattina erano presenti il presidente del comitato provinciale della Federciclismo di Frosinone il presidente del comitato provinciale di Latina, nonché il vicepresidente ed il presidente del comitato regionale del Lazio della Federciclismo. Non mancava davvero nessuno in quanto si assegnavano ovviamente le maglie di campioni regionali ed è stata una partenza velocissima quella degli esordienti, adesso vedete una coppia che cerca di avvantaggiarsi con Enea Sambinello del Fausto Coppi, ma sono rimasti subito in pochi gli atleti che si stanno contendendo il successo alla sua ruota, invece vedete con il dorsale di gara numero 29 la casacca e quella del pirata è Ivan Toselli, ecco qua la coppia al comando quindi con Toselli e Sambinello che hanno qualche metro di vantaggio nei confronti di un gruppetto di 5-6 atleti e praticamente questa è la testa della corsa, in quanto già nel tratto di trasferimento che portava gli atleti verso il circuito alla quale si stanno riferendo le immagini c'è stata una selezione notevole, sono partiti a sprombattuto i ragazzi della categoria esordienti e quindi subito tanti ritiri in questa prima gara di giornata, ovviamente non aiutati dal tempo questi ragazzi molto giovani, specialmente quelli del primo anno che quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria non hanno avuto possibilità di svolgere attività fino a pochi mesi fa e quindi ovviamente si trovano ad affrontare subito uno circuito abbastanza impegnativo all'inseguimento della coppia al comando vediamo Niccolò Ragnatela del team Eurobike con una quindicina di secondi di ritardo dai due uomini che si trovano al comando e poco più indietro invece un gruppetto forte di quattro unità che sta per piombare su Ragnatela adesso andiamo a vedere chi sono coloro che rappresentano praticamente quello che possiamo definire ormai il gruppo ammiraglie anche se quest'oggi non è permesso il seguito a causa di un circuito particolarmente breve qui vedete con il dorsale 18 Jacopo Ficaccio del Pirata che guida questo gruppetto ed ancora poi vedete con il dorsale numero 38 invece è Luca Attolini intanto si stanno praticamente si sta ricompattando la testa della corsa quindi si va un po' a ricomporre il gruppo di 7 e vedete con il dorsale numero 30 invece Giuseppe Sciarra e con il dorsale numero 22 invece Emanuele Rocchi che chiude questo drappello quando siamo 4 tornate dalla conclusione non hanno sicuramente peccato di attendismo i ragazzi intanto due giri dopo si ripropone l'azione che avevamo visto in precedenza ancora i due che hanno attaccato pochi chilometri fa e questa volta Enea San Binello sembra guadagnare qualche metro in più il portacolori della Fausto Coppi si alza sui pedali e prova a mettere qualche secondo tra sé ed il primo interato inseguitore Ivan Toselli del Pirata OTC ricordiamo che sono due le maglie in palio in questa corsa per quanto riguarda gli atleti laziali vedete questo bella testa a testa tra l'inseguitore vale a dire Ivan Toselli inquadrato adesso e l'atleta che si trova alla comando Enea San Binello il primo Toselli è del Pirata il secondo è della Fausto Coppi adesso sembra ricomporsi la situazione alla comando praticamente si va ricomponendo almeno in questa fase ci sembra che si stia ricomponendo la coppia in testa intanto guardate davvero le condizioni nella quale questi ragazzi davvero eroici e giovanissimi ma questo è anche il bello di uno sport come il ciclismo sotto l'acqua sotto la pioggia battente temperatura attorno ai 12-13 gradi quindi neanche una temperatura estiva siamo ovviamente nel mese di ottobre questi ragazzi stanno dando battaglia sin dal primo chilometro non si sono risparmiati un ammetro intanto avete visto che la coppia alla comando adesso invece è inseguita da due atleti si tratta del dorsale 25 e ancora una volta l'avevamo visto sempre molto attivo Niccolò Naragnatela assieme a lui abbiamo Luca Tolini della Daniello Sacklinguerra questi due atleti intanto la pioggia adesso si fa davvero battente sono ad appena 10 secondi dagli uomini alla comando li vedono in questo lungo rettilineo dove la strada diventa un po' più larga ma poco più indietro ci sono anche gli altri che fanno parte di quello che è rimasto del gruppo praticamente è stata una giornata decisamente selettiva sono rimasti praticamente in sette a contendersi il successo chiusi dall'atleta con il dorsale numero 30 che è Giuseppe Sciarra e che tra questi atleti che vediamo alla comando è anche l'unico del primo anno quindi davvero un merito a questo ragazzo che si trova lì davanti intanto vedete che c'è un primo ricompattamento adesso in gruppo alle spalle della coppia alla comando ma da dietro stanno rinvenendo molto forte quindi a breve potremo avere una situazione nuovamente di gruppetto compatto eccoci qua con almeno i sette che andranno a giocarsi il successo a quest'oggi che nonostante la freddo sono tornati tutti assieme adesso quindi dopo il tentativo di allungo più volte portato avanti da Enea Sambinello assieme a Ivan Toselli adesso si torna tutti assieme e quindi ci si lancia verso un epilogo allo sprint proprio di fronte alla Speedy Fest al centro spedizioni di Ferentino è partita una volata molto lungo prova ad anticipare tutti Niccolò Ragnatela ma attenzione alla rimonta alle sue spalle con le maglie della pirata ed è quella di Jacopo Ficaccio che adesso prende decisamente la testa del gruppo quindi Jacopo Ficaccio vince davanti a Enea Sambinello Emanuele Rocchi Luca Attolini Niccolò Ragnatela Ivan Toselli Giuseppe Sciarra che giunge in settima posizione ed è il primo classificato della categoria esordienti del primo anno maglie di campione regionale toscano Jacopo Ficaccio della categoria esordienti del secondo anno e Aralberto Marchetti della categoria esordienti del primo anno entrambi del Pirata Team a concludere questa prova riservata alla categoria esordienti Jacopo Ficaccio vince la prova della categoria esordienti e conquista anche la maglia di campione regionale una bella vittoria soddisfatto sì oggi corsa incerta fino all'ultimi metri poi abbiamo visto l'andazzo e quindi ci siamo gestiti e siamo riusciti a portare a casa questa bellissima maglia e anche questa vittoria totale insomma c'è chi ha provato a fare corsa dura sin dall'inizio ma comunque è stretto i denti alla fine è vinto in volata sì sono rimasto attaccato per i giri anche quelli fatti più duri poi la volata è andata così e sono stato io il più veloce Alberto Marchetti campione regionale del primo anno è arrivata una maglia importante una maglia bella una giornata positiva per te certo è stata una bellissima giornata a parte la pioggia il percorso bellissimo l'atmosfera con tutti gli avversari altrettanto e sono molto orgoglioso dei risultati di oggi a chi dedichi questa maglia? Dedico la maglia alla mia famiglia all'allenatore e soprattutto a me che sono molto impegnato per arrivare a vingerlo Giuseppe Sciarra vincitore della prova degli esordienti del primo anno bella soddisfazione una giornata dura tanta pioggia oggi sì sì è stata tanta pioggia e ha fatto una tempesta incredibile senti per te come sta andando questa stagione? bene la prima vittoria stagionale solo non ci voleva questo covid ed archiviata la prova della categoria esordienti del primo e secondo anno è il momento della gara riservata alla categoria allievi non ha smesso di piovere qui a Ferentino ci troviamo ancora di fronte alla speedy fast di Pierangela Mastrosanti e ci ha raggiunto per il commento di questa gara il presidente della Velosport Ferentino Walter Cardarilli Walter buonasera sì buonasera a tutti e grazie per l'intervento allora Walter abbiamo visto come il circuito che gli atleti della categoria esordienti hanno affrontato è stato molto selettivo il tempo ovviamente ha detto la sua qui però si parla di ragazzi più grandi 70 sono gli atleti al via quindi può essere una corsa insomma anche un po' più tecnica e tattica quella degli allievi come cosa ti aspetti? sì diciamo che oggi il percorso è selettivo e poi anche con il tempo che purtroppo non ci ha dato tanto ragione diciamo che la gara sarà senz'altro resa dura speriamo ecco che tutto vada per il meglio e abbiamo messo tutte le nostre forze in campo per la buona riuscita andiamo avanti così vediamo come andrà la gara e vedremo come andrà la gara per quanto riguarda questa prova dicevamo è la gara riservata alla categoria allievi ed è la gara che assegna il trofeo Elio e Roberto Mastro Santi una gara che voi avete preso in mano qualche anno fa e che ormai diciamo viaggiate all'unisono con la famiglia Mastro Santi nel ricordo di due personaggi Elio è stato uno dei soci fondatori della Velosport Ferentino ma due personaggi importanti per il ciclismo non solo di Ferentino ma della Ciociaria e del Lazio in generale sì vero è importante per noi è un momento molto diciamo toccante sì abbiamo stretto questo questo connubio con la famiglia Mastro Santi e fin dal primo momento ci hanno dato fiducia e noi ci stiamo mettendo tutta per ripagarli nella loro fiducia e quindi l'impegno è totale per la buona riuscita della manifestazione intanto pronti via c'è subito un attacco molto interessante perché è un atleta di spicco della categoria allievi ed è Samuele Scappini della team Forte Braccio una delle formazioni estraregionali ce ne sono tante quest'oggi alla partenza che vengono da fuori dei confini laziali che subito pronti via pancia a terra prova a fare la differenza nei confronti degli avversari diretti per il successo finale anche in questa gara così come è avvenuto nella categoria esordienti del primo e secondo anno sarà assegnata la maglia di campione regionale noi lasciamo adesso andare la battistrada quindi lasciamo andare Samuele Scappini alle sue spalle vedete si è formata una coppia con Gianmarco Vicini a fare l'andatura del pirata Orelli Tank ed è un atleta del comitato regionale del Lazio così come l'atleta della logistica alle sue spalle e quindi ovviamente gara nella gara Walter quest'oggi perché si c'è da cercare di andare a riprendere Samuele Scappini ma ovviamente gli atleti laziali si marcano a vicenda si ragazzo Umbro abbiamo già visto qualche domenica fa che ha fatto un'altra bella prestazione una bella vittoria quindi non è nuovo a queste prestazioni certo oggi si compete per il titolo regionale qui abbiamo due ragazzi della regione Lazio quindi che stanno lottando per giuridicarsi la maglia è abbastanza competitiva la gara con squadre abbastanza guerite e laziali quindi vedremo delle belle oggi intanto avete visto come praticamente il gruppo si è subito riportato infatti su due contrattaccanti al via ci sono atleti importanti come Federico Amati già vincitore quest'anno di 5 successi e ovviamente anche l'atleta che si trova che ritroviamo adesso in testa alla corsa vedete il ragazzo con il dorsale di gara numero 91 Scappini che ha fatto molto bene anche lui ha vinto dicevamo l'avevi già ricordato pochi giorni fa per lui già un successo quest'anno due vittorie un successo scusate nella prova di Ponte San Giovanni del 27 di settembre quindi atleta che se la cava particolarmente bene certo è che dietro c'è molta attenzione sicuramente per Federico Amati della logistica ambientale che è il favorito per quanto riguarda la classifica dei migliori laziali ma ovviamente questa sfida nella sfida con un po' tutto il team logistica ambientale tra i più forti ma ci sono anche i tuoi ragazzi del Velosport Ferentino che sanno e sapranno dare sicuramente battaglia a questo oggi intanto vedete che alle spalle del Battistrada esce un atleta di un'altra formazione extra regionale è caratterizzato dal dorsale di gara numero 73 si tratta di Mattia Maioli della polisportiva fiume cinese Fight Adriatica formazione questa che viene dalla Romagna quindi Walter davvero un rappresentativo un po' di tutto del Centro Italia quest'oggi alla partenza si questa della fiume cinese è la prima squadra a dover inviare nella iscrizione nella nostra gara quindi diciamo da lì è partita la serie di iscrizioni abbiamo varie regioni dal Piemonte dall'Emilia Romagna dalla Sicilia Puglia Marche Umbria Abruzzo Campania insomma abbiamo un pari partecipanti siamo contentissimi di questo un segno che magari la nostra gara ha un certo prestigio ovviamente il Trofeo Mastro Santi solitamente si concludeva nel centro di Ferentino quest'anno anche per ragioni logistiche quindi dal punto di vista degli spazi necessari per lo svolgimento della gara si è svolta con partenza d'arrivo di fronte alla Speedy Fest però ovviamente l'amministrazione comunale era presente con il sindaco e comunque anche la federazione abbiamo visto questa mattina la partenza presenti tutti i dirigenti della Federaciclismo Laziale e provinciale sia di Frosinone che di Latina insomma c'è molta vicinanza un po' perché si corre nel nome di due personaggi importanti un po' perché si assegnano tre maglie prestigiose quest'oggi che sono quelle di campione regionale diciamo oggi c'era molti personaggi certo il sindaco prima come assessore adesso come sindaco da qualche anno è sempre diciamo vicino la famiglia Mastrosanti e quest'anno non è voluto mancare quest'anno anche abbiamo avuto la presenza anche del delegato allo sport Nicola Dell'Olio che comunque fin dal primo giorno che gli ha proposto l'idea di rinnovare anche con i problemi del covid il Mastrosanti dato subito manforte affinché l'evento potesse realizzarsi il compilato regionale si oggi è presente con con il presidente Mauro Danfi non manca mai neanche lui a questi appuntamenti poi c'era anche struttere tecnica un altro delle cese e Leandro Fironi quindi non mancava nessuno questo non mancava nessuno c'era anche Massimo Saurini il presidente provinciale di Radina quindi siamo completo intanto avete visto che alle spalle c'è Bagar abbiamo visto scatti e contro scatti alle spalle però di questo atleta che continua a rimanere al comando noi abbiamo superato metà gara Samuele Scappini sta facendo un acronometro che sembra essere contro se stesso il suo vantaggio nei confronti del gruppo è attorno al minuto e venti è salito subito è stato bravo a prendere un bel vantaggio poi dietro sembravano in un certo momento i ragazzi del team logistica ambientale volessi organizzare poi forse prevalza la voglia di combattere per la maglia di campione regionale adesso troviamo Samuele Scappini con un primo e venti un primo e trenta di vantaggio nei confronti del gruppo e quindi un vantaggio ancora considerevole per lui mancano ancora una trentina di chilometri alla conclusione ma questo vantaggio è davvero notevole anche perché la sua condizione di forma la vediamo in queste immagini continua ad essere molto lucido qui ne approfitta anche per prendere una gel perché fa freddo oggi quindi c'è anche l'alimentazione molto importante per questi atleti e vedete che è ancora molto lucido si alimenta è molto importante alimentarsi in queste fasi perché da soli si corre un po' il rischio di farsi prendere dalla voglia di spingere poi ci si dimentica specialmente questi ragazzi che hanno ricordiamo 16-17 anni d'età quindi sono ragazzi molto giovani rischiano un po' di lasciare per strada tante energie intanto vedete alle spalle si è formata una coppia con Federico Minori del team logistica ambientale assieme a lui vedete con il dorsale 35 Federico Di Mauro questi due se ne stanno andando questo è un attacco importante anche in ottica campionato regionale perché Federico Minori è un atleta laziale e quindi si muovono anche gli atleti per quanto riguarda il campionato regionale alle spalle della coppia che abbiamo visto in precedenza invece si porta questo ragazzo Mattia Maioli della Polisportiva Fiumicinese Fight Adriatica che si sta avvicinando ormai a pochi metri dai due più immediati inseguitori di scappini quindi a breve verosimilmente avremo un terzetto sta spingendo al massimo Maioli lo vediamo in queste immagini perché capisce la necessità di agganciarsi a questa coppia che è lì a pochi metri da lui perché in questa coppia c'è Federico Minori che è del team logistica ambientale che può contare su una squadra molto forte a fare la copertura e infatti si forma il terzetto con Federico Di Mauro Federico Minori e Mattia Maioli che inseguono ad un primo e dieci dal battistrada e più indietro il gruppo questo è un bel terzetto Walter si un bel terzetto poi come dicevete prima ci sono i laziali quindi dietro c'è una sorta di controllo perché nessuno può muoversi ma comunque se non si muovono è il laziale che potrebbe prendere la maglia e intanto vedete dietro ovviamente si muovono le maglie del Pirate quella della Fosco Bessi dell'affiliazione siciliana poi ci sono i ragazzi ovviamente della polisposittiva Fiumicinese a fare da stopper e diventa una prova molto interessante adesso anche la lotta la gara nella gara per il successo del campionato regionale intanto la media nonostante Scappini sia solitario del comando da diversi chilometri e nonostante un percorso con tanti dislivelli e la pioggia è superiore ai 37 chilometri orari quindi sta viaggiando molto forte Scappini alle sue spalle dicevamo c'è un terzetto quello composto da Di Mauro Minori e Maioli e poi il grosso del gruppo che adesso insegue ad un primo e 40 e come vedete anche in questa gara così come è stato in maniera un po' minore ovviamente rispetto agli esordienti ma c'è stata molta selezione intanto sempre a tutta Samuele Scappini Walter non sembra avere fondo le energie non sembrano avere fondo le energie di questo ragazzo in ava scoperto ormai da 60 km e continua a spingere fortissimo direi che vada come vada quest'oggi merita un applauso perché ha dimostrato di avere tanta convinzione e tanta forza sicuramente il ragazzo l'abbiamo visto già qualche domenica fa dicevo e ha già dimostrazione delle sue potenzialità quindi non è nuovo a queste iniziative sta andando bene sicuramente sarà difficile andarlo a prendere intanto vedete che alle spalle del terzetto quello composto da Di Mauro Minori e Maioli si è portata all'autovettura del cambio ruote e questo significa che hanno un vantaggio nei confronti del gruppo che insegue superiore ai 30 secondi e quindi a questo punto possiamo dire che il podio se lo giocano questi tre ragazzi alle spalle di Scappini mentre quando siamo ormai a poco più di due giri dalla termine Samuele Scappini sembra ormai lanciato verso il successo anzi siamo nel corso del penultimo giro quindi a breve suonerà la campana e inizierà l'ultimo giro poi il breve tratto in linea che ci riporta nella zona industriale di Ferentino dove si concluderà la gara noi lasciamo andare proprio al suono della campana il terzetto che insegue ritroviamo ancora una volta in testa Samuele Scappini ormai lanciato verso il traguardo di questa edizione 2020 del trofeo Elio e Roberto Mastrosanti continua a spingere molto forte nonostante il suo vantaggio sia superiore al minuto primo nei confronti del terzetto che insegue superiore al minuto e 40 nei confronti del grosso del gruppo non si rilassa neanche un attimo neanche in queste situazioni nelle quali può sicuramente gustarsi il successo noi con la nostra moto ci spostiamo sul traguardo dove finalmente trova il momento e il modo di voltarsi e controlla che alle sue spalle non c'è nessuno Samuele Scappini del team Forte Braccio l'ultime pedalate per lui una grande vittoria quest'oggi in solitaria alla media di 37 473 Walter che bel successo quest'oggi di questo ragazzo sì veramente una grande impresa per questo ragazzo con il tempo che abbiamo avuto oggi ha dimostrato di avere grandi capacità complimenti a lui e alla sua squadra e un ringraziamento va anche ovviamente a tutti i volontari che si sono spesi quest'oggi perché è una giornata difficile per tutti intanto è la volata per la seconda posizione con la maglia della fiumicinese fight adriattica di Mattia Maioli che coglie il secondo posto terza piazza per Federico Di Mauro quarto è Federico Minori che si lascia andare anche ad un gesto di successo perché vince il campionato regionale quindi Rosio Ru Rizzello Morea Dorazio Basile e Bozzola in decima posizione questo l'epilogo del trofeo Elio e Roberto Mastrosanti per la categoria lievi 2020 ringraziamo Walter Cadarini che ci ha affiancato in questo commento e andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti nel dopocorza una fuga partita dall'inizio e terminata all'arrivo con la tua vittoria sì dai è stata molto dura all'inizio dopo visto che il tempo aumentava e quindi ci ho creduto e ce l'ho fatta te l'aspettavo all'inizio quando hai fatto quella accelerata che saresti arrivato fino in fondo non me l'aspettavo soprattutto sul pezzo della salita perché avevo 40 secondi e il gruppo andava in una buona velocità e quindi non me l'aspettavo quando è invece stato il momento in cui l'hai capito che probabilmente avresti vinto te un momento che l'ho capito sugli ultimi quattro giri sul giro piccolo che avevo un minuto un minuto e mezzo minuto e quaranta e quindi ho detto vai ce la faccio con Mattia Maioli della Polisportiva Fiumicinese secondo classificato nella categoria allievi come giudichi la tua gara? La gara sta molto bella perché il circuito era adatto a me poi ho avuto fortuna che quando sono scattati il terzo e il quarto stavo bene con le gambe quindi sono potuto rientrare poi c'è questa collaborazione e siamo riusciti ad arrivare poi ho fatto la mia volata e ho fatto il mio secondo posto Siamo con Federico Di Mauro terzo classificato il trofeo Elio e Roberto Mastrosanti come giudichi la tua gara? Ma non era partita bene perché appena iniziata la gara sono subito caduto poi ho inseguito e ho aspettato la fuga buona e siamo andati in via in tre è stata combattuta Federico Minori quarto classificato al trofeo Elio e Roberto Mastrosanti però campione regionale laziale te l'aspettavi all'inizio di questa gara? e noi avevamo fatto proprio tutta un'altra tattica di strategia il problema è che avevamo iniziato col piede sbagliato anche perché abbiamo perso già avevamo perso parecchi uomini che comunque erano cioè ci potevano aiutare siamo rimasti in tre abbiamo inventato il momento io ho sentito le gambe che comunque anche loro ci stavano ho provato a fare la fuga la prima volta ho fatto un giro e mi hanno ripreso la seconda volta è andata via e sono riuscito a prendere il quarto posto e la maglia di campione regionale è andata via grazie a tutti